Parte del PD Terramano ha presentato un ricorso in Commissione di Garanzia contro il segretario provinciale Gabriele Minos. Questo atto ha riaperto una frattura all'interno del vostro partito? Io credo che con questo atto si tenda a fare un attimino un po' di chiarezza all'interno del partito su alcune dinamiche. Vengono sottoposte all'attenzione della Commissione di Garanzia alcune questioni che sono state ritenute da parte dei ricorrenti meritevoli di attenzione da parte della Commissione. Adesso la palla passa all'organo giudicante interno che valuterà queste posizioni. Confidiamo ovviamente in una definizione più che altro breve, non per altro ma semplicemente perché a questo punto si ritiene opportuna una definizione in tempi brevi per una migliore prosecuzione delle attività di partito su base provinciale e evitare una situazione di stallo. Quali le motivazioni alla base di questa decisione? Ma io da quello che ho capito sommariamente le motivazioni attengono alcuni comportamenti nell'esercizio dell'attività di segretario provinciale, alcune violazioni statutari e regolamentari che devono essere accertate e alcune posizioni politiche che forse non sono state ritenute da parte dei ricorrenti rispondenti appunto a un canone di buon comportamento all'interno del partito. Il ricorso è stato presentato qualche tempo fa ma il caso tra virgolette è scoppiato adesso? Sì, il ricorso mi risulta, ecco io non sono un componente di assemblea però il ricorso mi risulta presentato un po' di tempo fa adesso la commissione sta facendo la sua attività istruttoria con appunto solerzia e con attenzione l'obiettivo appunto come dicevo prima è quella di arrivare a una definizione nel più breve tempo possibile qualunque essa sia per poter avere appunto una prospettiva futura e un punto di caduta della nostra attività politica su base provinciale.